Ciao Acquario, bentornato. Oggi è domenica, 20 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo Acquario. Con un diavolo per capello, anzi tre. Che peccato ritrovarsi nel weekend con un diavolo per capello, ma sotto effetto di ben tre astri in quadratura, dei quali un il vostro astro guida urano, nulla di più facile, soprattutto se già fisicamente non siete in forma e state pagando lo stress della settimana lavorativa con gli interessi. Peggio ancora se anche oggi, mal consigliati da mercurio dissonante, per turno o per fare un favore a un collega vi siete accollati un'altra giornata di lavoro, non sarebbe niente se non vi foste alzati con l'emicrania e un senso di pieno allo stomaco, effetto del venerdì goliardico. Passerà, con un po' di movimento una colazione leggera, intanto l'umore è fuori fase e tale rimarrà fino a sera, quando finalmente ve ne tornerete a dormire, e domani nessuno osi puntarvi la sveglia. Possibile nascita di coppie, di amicizie nuove e di teneri incontri. Si possono concretizzare progetti importanti o di farne nascere di interessanti. Fattori di successo per l'amore che è il grande favorito. Possibili alcuni momenti o di tristezza e sconforto a causa di vosre storie passate, cercate, se possibile, di recidere ogni legame con persone, luoghi e cose che vi ricordano storie passate e tristemente fallite. Qualcuno intorno a voi non tre sentimenti positivi e vi vuole bene in gran segreto, forse dovreste provare a non mostrarvi sempre chiusi agli approcci e non arroccarvi nelle vostre abitudini. Per i sing l'amore è a portata di mano, presto si farà sentire. Per quelli in coppia, ignorate una persona che vuole farvi credere di essere innamorato di voi. Non riuscirete a controllare una situazione e questo, per voi che siete abituati ad avere sotto controllo tutto, sarà una novità e vi procurerà un certo nervosismo. Oggi un amico o un'amica di cui vi fidate potrebbe darvi un dispiacere o sgambettarvi, per il semplice gusto di vedervi in difficoltà potrebbe anche svelare qualche vostro piccolo segreto. Affrontate tutto con diplomazia e indifferenza. Oggi fate ben attenzione a chi invitate a casa, potreste pentirvene e ritrovarvi a gestire situazioni difficili. Buone notizie in arrivo, anche in tarda serata, procurate di rispondere prontamente a telefono. Potreste perdere una telefonata importante. Oggi potreste avere noie e fastidi da persone vicine di casa o vostri conoscenti, non date loro spago e fate in modo da ignorarli. C'è qualcuno che con molta discrezione e in silenzio nutre sentimenti per voi, cerca di non darlo a vedere poiché pensa che sarebbe impossibile coronare il suo sogno con voi. I transiti planetari vi sorridono facendo risplendere le vostre qualità migliori, come la vena ironica, il gusto per la vita mondana, la disponibilità a iniziative filantropiche. Giove nei gemelli è l'artefice di una vera e propria rinascita e incoraggia la tendenza, in voi spiccata, a imboccare strade nuove o addirittura rivoluzionarie. Giove promette quest'oggi il sostegno dei vostri cari, amici e conviventi, nei progetti da voi intrapresi. C'è anche un tono vitale alto, vi fa tuffare in interessi che sembrano il fisico con un atteggiamento insieme giocoso e avventuroso. Il pianeta vi fa sentire invincibili adesso, specie se siete nati nella terza decade, ma, voi, comunque, moderate gli eccessi. Coi nervi scossi, magari da un brutto sogno, magari da uno scontro in famiglia. Tutto plausibile con la luna in toro abbracciata a orano in quadratura. Aggiungeteci anche Plutone possessivo e rancoroso che vi suggerisce qualcosa all'orecchio, mentre Marte dalla sesta casa vi ricorda che avete preso un impegno di lavoro o promesso a un amico di dargli una mano, a meno che alzandovi già stonati da un brutto sogno o da una notte agitata non scopriate di avere qualche linea di fembre, lo stomaco imballato, un fastidioso dolore alla schiena o al ginocchio, in questo caso sarete giustificati. Avvisate per tempo chi vi sta aspettando e poi giratevi dall'altra parte e provate a riprendere sonno. Amore ed eros. Malcontento in famiglia, gli altri vi ricoprono di premure che voi non apprezzate e non capite, focalizzati su una persona ormai uscita dalla vostra vita ma che non potete fare a meno di rimpiangere. Nervosetto anche il quattro zampe che vi fa un mucchio di dispetti per attrarre la vostra attenzione mandandovi in escandescenze. Si scaldano i vostri cuori nelle vicinanze della prima frescura autunnale. Intensità delle emozioni e complicità erotica con la persona amata sono a portata di mano, come voluto sia da Venere, che da Giove, tutti in felice aspetto da sagittario e gemelli e specie se siete nati nella terza e seconda decade. Lavoro e denaro. Punto dolente e urticante della giornata, già il fatto di dover sgobbare anche di domenica vi mette di pessimo umore fin dal trillo della sveglia, se poi ci aggiungete che la vostra attività non vi piace e i compagni di squadra sono tutti spocchiosi e competitivi è facile comprendere lo stato d'animo con cui vi alzate per recarvi al lavoro. Rallentamento anche per chi ha un'attività improprio che di suo sembra andare fortissimo, ma a prezzo di grossi sacrifici sia economici che professionali, fatevi una domanda, ne varrà davvero la pena? Il cielo vi favorisce nel gestire alla perfezione i tempi di lavoro, senza fatica e nel migliore dei modi possibili, specie se festeggiate il vostro compleanno in febbraio. Concludete, infine questa giornata mostrando all'attivo risultati di tutto rispetto. Benessere. Senso di pesantezza e ritenzione idrica, ma non sempre la colpa è del sale, golosi di frutta ne mangiate davvero troppa ma dimenticate che contiene molti zuccheri. Mal di schiena, di piedi, di stomaco, nulla di grave ma fastidioso sì. Allo specchio ci sarebbe molto da ridire, a cominciare dai brufolletti fino ai capelli, decisamente fuori posto, urgo nottaglio e colore ma di domenica chi vi trascinerebbe mai dal parrucchiere? Per lei, nervose voi, irritabile anche la vostra cagnolina, per non parlare dell'amicia che vi fa un sacco di dispetti, quasi volesse provocare la vostra reazione. Temeraria, ancora non sa quanto potete essere terribili. Per lui, se c'è del lavoro da sbrigare, in azienda o in proprio, inutile tergiversare, tanto vale mettersi di buzz buono e finire il prima possibile. Ottimo proposito, ma vari ostacoli nell'arco della giornata vi obbligheranno a rallentare ugualmente. Quando si ha il cielo contro bisogna lasciarlo fare. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata.